Anche se Nise si è mobilitata per le celebrazioni della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Associazione Rinascita Meridionale per le donne vittime di violenza, in collaborazione con il Comune e nell'ambito del programma sulla scia di Sherazad, hanno organizzato un evento contenitore di diverse iniziative, con il coinvolgimento di alcune delle associazioni presenti nel territorio senisese. Al Teatro Parrocchiale Agorà si è svolto un incontro al quale hanno partecipato professionisti esperti sul tema e rappresentanti istituzionali, ma su tutto è stata l'arte, il teatro, il cinema e la musica a dare voce al messaggio che questa giornata intende lanciare. L'Associazione Sams ha portato in scena un corto teatrale scritto dal regista Leonardo Chiorazzi dal titolo Amoricidio. Si divertivano a tenere Larghe le mie gambe E ogni volta che spingevi Con rabbia lo facevi Mentre di dentro Morivo dal dolore Con uno straccio in bocca Io non appartengo a nessuno, io sono il seme che apre la terra, dà la vita e non teme la vita, io sono più bella del mio corpo, sono più potente Nell'ambito della campagna Non ti amo da morire, è stato poi proiettato un cortometraggio dal titolo Ora non puoi più farlo dell'associazione Me Too con il presidente Pasqualino De Mattia con il quale è stato firmato un protocollo d'intesa già firmato da associazioni operanti in Molise e dalla consigliera di parità della regione Molise Secondo il protocollo ci si impegna per un biennio ad organizzare eventi di sensibilizzazione contro la violenza di genere Le parole in musica di Marco Sciarra e dei Lupi della Rota hanno poi concluso la serata con l'inedito Carla Uomo, non essere geloso della donna quando mette i tacchi la gonna, falli complimenti se sembra una bomba Uomo, vieni che dobbiamo parlare, non la possono neanche toccare, se è bella che piace ricorda la possono solo guardare Vieni ti racconto di Carla, bella, dolce, calma, che ora purtroppo non parla ed ora tutto il mondo ne parla Vieni qui vicino che ti faccio capire, io ero lì vicino e la sentivo morire, tutti qui presenti devono capire Tutto quello che io ho da dire inizia tutto dalle elementari, tra gite, tra giochi e servizi sociali Sì, hai capito bene, cresciuti insieme nel parco del nostro quartiere, il padre già morto e la madre che beve Sabati fuori, troppi giorni insieme, fratello e sorella, altro che quel bene, lo vedi già piango se pensa alle scene Ogni sera festa, ce l'ho impressa in testa Carla